Buongiorno abitanti di New Doll City, qui è Gossip Doll ed oggi porto con me delle brutte notizie. Qualcuno è sulle mie tracce ed è vicinissimo a scoprire chi sono. Quindi mi spiace annunciarvi che quelli dei prossimi giorni forse saranno i miei ultimi scoop. Sarete un po' tristi per me? Non ci posso credere, Gossip Doll non scriverà più sul blog. Beh certo, se Candy ha scoperto di chi si tratta, è normale che non voglia più scrivere, Serena. Uno dei punti forti di Gossip Doll è proprio l'anonimato e se Candy dovesse scoprire chi c'è dietro quel blog, o insomma, nessuno gli manderebbe più soffiate. Sì, infatti, Serena, se ci pensi, gli scoop di Gossip Doll non vengono mai da lei, ma da tutti noi, tutti noi che le segnaliamo quello che succede nelle nostre città. Piuttosto, ho sentito dire che Candy sta indagando sulla famiglia Martinez. Lo sapevo, è Mimi. E se fosse Mike? Mike? No, non potrebbe, oh andiamo, ha scritto che sono un'oca con i capelli rosa. Beh, magari lo pensa davvero. Oh andiamo, Chuck, non siamo la coppia più bella del mondo, ma non credo pensi questo di me. Ma a proposito, Serena, come vanno le cose con Mike? E cosa farai quando lui partirà? Ne parleremo oggi, io purtroppo sono stata troppo impegnata con i compiti ultimamente. Oh, Serena che studia. Sì, esatto, e poi dimmi, Chuck, devi essere molto triste per la partenza di Mike, ora avrai Glitter tutta per te. Io e Glitter siamo solo amici. Sì, certo, ed io non vesto dolcello lana. Oh, ciao Blair! Ciao, scusa, devo scappare. Ok, Chuck, volevo proprio te. Beh sì, faccio questo effetto alle ragazze. Oh, mi spiace dirtelo, ma non mi fai più quell'effetto, Chuck. No, volevo parlarti di Claudio. Oh, sì, ho saputo che si trasferirà nella nostra scuola. Sul serio? Non ne sapevo niente. Beh, dovresti leggere di più Gossip Doll, comunque... Volevo solo assicurarmi che, ecco, insomma, voi lo tratterete bene, giusto? Oh, andiamo, Marine. Pensi davvero che noi passiamo il nostro tempo a prenderci gioco di quelli della città bassa? Eeeh, un po'. Ehi, non vi giudico, eh, lo facevo anch'io. Mi è venuta un'idea, perché non inviti i tuoi compagni di classe alla pasticceria di Alice, Chuck? Così gli farai conoscere Claudio. I miei compagni di classe alla pasticceria di Alice? Non amano frequentare quel posto, ma ok, ci proverò. Perfetto, grazie ragazzi. Claudio cambierà idea in un batter d'occhio. Uh, attenzione, ho appena saputo che Claudio sta per conoscere i suoi nuovi ricchissimi amici. Non vediamo l'ora di conoscerli anche noi, vero, Marine? No, Marine, non capisco perché ha organizzato sta cosa. E soprattutto perché è su Gossip Doll. Guarda, non vedo l'ora che Candy la scopra e che non scriva mai più niente. Oh, andiamo Claudio, non mi sembra un segreto così grande. So comunque gli affari miei, Melanie. Lascia stare Melanie, Claudio è solo super agitato. Ma vedrai, Claudio, ti metteranno a tuo agio. Ho organizzato questo incontro proprio per farti capire che non tutti nella città alta sono come Blair. Certo che no, alcuni anche peggio. Nessuno ha chiesto la tua opinione, Nabu. Non badate a lui. Oh, ma sono loro? Ciao a tutti ragazzi, Claudio, lascia che ti presenti i miei amici. Sono Ryan e Justin. E ovviamente saranno anche i tuoi futuri compagni di scuola. È un vero piacere Claudio, sarai nella squadra di football, sai, io sono il capitano. Piacere mio ragazzi, no, non mi interessa il football. Allora potresti unirti al club di scacchi? Scacchi? Ma non è per vecchi. Ah, simpatico questo nuovo amico, Jack. Wow, non sono mai voluto entrare in questa pasticceria, ma qui ci sono delle ragazze bellissime. Bellissime! In effetti quella ragazza è bellissima. Chi? Ari? Sì, è molto carina. Ari è la rossa? No, non mi riferivo a lei. Ah, Alice. Sa cucinare molto bene. Ma no, ma no, io sto parlando di quello splendore dai capelli corvini. Daisy, sta alla larga da lei, Justin, è una tipa strana. Oh, beh, se vuoi da, la presento. Davvero? Oh, sì. Daisy, puoi venire un attimo? Che c'è, Claudio? E questi chi sono? Sono i miei futuri compagni di scuola e... Volevo presentarti Justin. Mai ho visto pelle più diafana della tua, Daisy. Io mai ho visto un arlecchino con dei colori fluo, ma c'è sempre una prima volta. Oh, sei anche simpatica. Mi definisco realista, ma... Ok. Eh, scusate, devo tornare da Alice. Che cosa voleva quello? Penso prendermi in giro. Guarda, ti direi di lasciar perdere, Daisy non l'ho mai vista con nessun ragazzo. Allora, adesso che le presentazioni sono state fatte, io proporrei di andare a fare un giro. Che dite, ragazzi? Wow, sì, mi serve proprio un altro vestito per il ricevimento dei miei genitori. Lo sapete che ho dei muscoli ancora più grandi adesso, quindi mi servono abiti nuovi. Oh, c'è anche Ryan. Oh, per favore, Marine, non far finta che tu non abbia organizzato questa cosa solo per vedere Ryan. Non è vero, no, bu, l'ho fatto per fare un favore a Claudio. Ciao, Ryan. Ciao, Marine. Non ti si vede da un po', eh? Ciao, Marine. Non ti si vede da un po'. Eh, sì, sono stata un po' impegnata con i compiti. Come va la squadra di football? Oh, molto bene, Marine. Grazie per averlo chiesto. Sai, io ora... Oh, no, non voglio sentire parlare di sport. Ah, 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 tutto molto interessante. E dimmi, ora stai uscendo con qualcuna? Ah, ho qualche pretendente. In realtà sono moltissime, però no, ancora no. Uscirei con te, Marine, ma sai... Sai cosa? Ti fai vedere un po' troppo nella città bassa. E a me questo non piace molto. Oh, ma io lo faccio come volontariato. Sì, aiuto i poveri. Marine! Oh, non lo sapevo. Beh, questo ti fa onore. Allora, dai, magari possiamo organizzarci. Certo, magari al galà dei tuoi genitori. È una festa abbastanza importante, ma perché no? Sei invitata, mia cara. Oh, grazie, non te ne pentirai. Sei sempre la solita. Io che credevo che fossi cambiata. Oh, ma sta zitto, Nobu. Sei solo geloso di tuo fratello, come sempre. Oh, io non sono geloso. E dopotutto io ho avuto da te una cosa che mio fratello non potrà mai avere. Oh, che sbruffone! Cosa, Marine? Già, ora vogliamo saperlo. Ecco, però promettetemi che questa cosa non uscirà da questa stanza. Ryan non deve assolutamente saperlo. Ok, dici tutto. Ehi, Lizzie, Eddie. Oh, ciao, Melanie. Conosci Eddie? Ciao, Melanie. Oh, sì, sì, siamo amici. Che ci fai qui, Eddie? Oh, io e Lizzie abbiamo le stesse passioni e stiamo facendo un po' di progetti per alcuni dipinti. Sì, Eddie è proprio bravo. Ti ho mai fatto vedere se disegni, Melanie? Ah, no, purtroppo no, non ce n'è stato il tempo e è appena tornato dall'America. Già, no, a lei non li ho ancora mostrati, ma se vuoi te li faccio vedere, Melanie. Sarebbe bellissimo, ma purtroppo ho il bus per tornare a casa. Melanie, per caso hai visto Claudio? Non si fa vedere più qui. Ah, sì, è nella città alta a fare shopping. Oh, no, l'abbiamo perso. Già. Oh, oh, la piccola Melanie che incontra il suo ex con un'altra. Effettivamente fanno proprio una bella coppia, ma Melanie come mai sei così triste? Ciao, Serena. Allora, di cosa volevi parlarmi? Di cosa volevo parlarti, Mike? Voglio sapere, insomma, cosa farai? Partirai? Sono ancora la tua ragazza? Mi dispiace, Serena. È che fra noi proprio non funziona. Ecco, vedi, anche in un momento difficile come questo io non ho pensato a te. Mi dispiace. Ma, Mike, come hai potuto farmi questa? Sei una persona senza cuore. Ha ragione Candy. Cosa? Candy? Ed insomma, e poi è venuto anche Ayan e Glitter, mi stai ascoltando? Ah, ehm, sì, scusa, Marina, che non posso credere che Gossip Doll sia chi crede Candy. Sì, lo so, è un po' strano, ma... se ci pensi bene, nemmeno tanto. Sai, Marina, a questo punto preferirei non saperlo, perché la cosa mi ferirebbe troppo. Pip pip. Oh, parli del diavolo. Attenzione, a quanto pare i miei ultimi scoop saranno bollenti. Lo sapevate che la nostra Marina ha dato il suo primo bacio a Nobu? Oh, Marina, non pensavamo avessi certi gusti. Cosa? Non posso crederci. Oh, no. Grazie, ragazzi, effettivamente non è andata così male, mi sono divertito con voi. Visto, Claudio, l'alta società non è quello che pensi tu. Ma, Rita, non ci posso credere. È vero quello che ho letto su Gossip Doll? Sì. Era per questo che volevi venire alla mia festa, per mio fratello. Beh, allora, fatti invitare da lui. Ovviamente. Oh, allora avevo ragione, allora avevo ragione. Hai baciato Nobu, hai baciato Nobu. Gli incubi non finiscono mai. Oh, mi sono ricreduta molto su Gossip Doll. Come faremo senza di lei? Beh, magari staremo tutti meglio e diremo quello che pensiamo alle persone che abbiamo davanti, senza nascondere nulla. Ma no, Melanie, no. Ci vuole una persona come lei che dica quello che gli altri non riescono a dire. Tu dici? Assolutamente sì. Mi faccia capire bene, signorina Blair. Sì? Mi dica, lei da quanto conosce Gossip Doll? Oh, beh, lei ha iniziato a scrivere della Città Alta e solo della Città Alta da, penso, un annetto. Sì? Quindi prima scriveva solo di voi. Sì, esatto. Poi appena Marine ci ha fatti incontrare tutti, insomma, e siamo dovuti stare insieme per le varie cose, ha iniziato a scrivere anche di voi, dovreste ringraziarci. Beh, non proprio. Ha combinato un po' di casini, Gossip Doll, qui. Ma effettivamente lei ha sempre scritto solo la verità, Glitter. Una verità che non spettava a lei dire, Melanie. Ti prego, Candy, ferma le tue indagini, lascia tutto così com'è. Non mi dispiace, Marine, ed anzi, proprio oggi io ho scoperto chi è Gossip Doll. Cosa l'hai scoperto? Esatto, e non sono sicura al 100%. Sono io, Gossip Doll. Cosa? Oh, per favore, Mike. Eh? Sì, sono io, ok? Che c'è? Non posso scrivere su un blog? Ma Mike, io non capisco perché avresti dovuto farlo. Perché scrivere tutte quelle cose? Trovo il tuo gesto molto altruista, Mike. Ma sciò che non c'è tu Gossip Doll. Cosa? Ma tu mi hai inseguito, insomma. Hai visto, no? Che sono stato io a mandare i Gossip. No, Mike. Sappiamo che non sei stato tu. No, scusate, non capisco. Volete dirmi chi è Gossip Doll? Gossip Doll è... Melanie. Melanie. Ma che sai di, Candy? A te fare la detective ti ha dato alla testa. Torna a fare l'unicorno. No, Claudio. Lascia stare. È vero. Sono io, Gossip Doll. Bene, Glitters, il nostro episodio finisce qui. Adesso vi aspetto tutti, tutti, tutti su Instagram per dirci cosa ne pensate di questo colpo di scena. E se ve lo aspettavate, insomma, ci avevate pensato a Melanie? Nel prossimo episodio di Gossip Doll, che sarà poi l'ultimo, scopriremo perché Melanie è diventata Gossip Doll. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Adesso vi aspetto su Instagram, spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!